Salve a tutti ragazzi e bentornati su Match Tuning Nuovo unboxing, nuovo upgrade Ora vede subito quello che ho comprato Ragazzi è stato un attimo Sto ad attimo senza parole Ok Allora Prima tiro fuori tutto e poi vi faccio capire Cosa è questa roba Allora ragazzi avete visto Cosa ho unboxato Comunque si avevate già letto nel titolo Qua sotto del video Quindi prodotti Della Powerflex Io volevo cercare di fare un po' di chiarezza sull'argomento Cercare di farvi capire Cosa sono i prodotti Della Powerflex E a cosa servono Innanzitutto Prima di cominciare con le spiegazioni Volevo ringraziare La Fascelli Performance Per la fornitura di questi supporti Trovate tutti i riferimenti in descrizione Detto questo Cominciamo a parlare del prodotto Powerflex Cos'è il prodotto Powerflex? I prodotti della Powerflex sono nient'altro che dei supporti come boccole Che vanno a sostituire quelle di serie di un'auto Quindi se andate sul sito della Fascelli Performance Cercate il catalogo della Powerflex E trovate tutte le auto che vi pare Con tutte le relative motorizzazioni e particolarità Detto ciò I supporti della Powerflex sono migliori di quelle di serie Perché sono migliori? Sono migliori perché sono in polioeritano Una gomma particolare che li rende più duri del 25-30% rispetto a quelli di serie Questa particolare materiale ne riduce assolutamente il rumore Quindi quando andate a prendere le buche o crepe Asperità della strada in generale Sentirete meno rumore In quanto le sottensioni vengono sollecitate di meno Questa gomma è molto più elastica Anche se dura rispetto a quelle di serie di una macchina Queste boccole sono plug and play Quindi quando le andate a mettere Sono praticamente come se andate a mettere quelle di serie Stessa cosa Quindi per farlo comunque rivolgetevi a un'officina o a un meccanico Molte persone non comprano questi supporti Perché costano un po' di più di quelle di serie È normale, sono migliori, sono di qualità È un prodotto quasi per corse Infatti la Powerflex li suddivide in più categorie Quella viola, diciamo quella stradale E quella nera per le competizioni Poi c'è la verde che è la Powerflex Heritage Se non ricordo male Che è per le macchine d'epoca E a seconda del modello Varia il costo ovviamente Detto questo Secondo me ne vale la pena In quanto sono migliori Hai una performance in macchina migliore Rispetto a quella della sospensione di serie E inoltre anche se costa di più Comunque durando anche di più Magari anziché cambiare due o tre volte le boccole Le cambi una volta E già ci hai guadagnato Detto ciò ragazzi Io spero di avervi delucidato completamente Su cosa sono i prodotti della Powerflex Quindi se volete ulteriori informazioni Comunque basta scriverlo nei commenti Sarò pronto a rispondervi Per questo video è tutto Lasciate un bel mi piace Seguite mi su YouTube Sulla mia pagina Instagram MitchTuning Per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti